dopo una settimana di acqua ma di acqua 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 almeno un metro quadro oggi ci proviamo ma che vada in terra siamo guarda che roba guarda e prova ma che vada arriviamo in fondo e ma c'è la curva oggi la vedo veramente scivolosa boschetto alternativo mai fatto prima volta grazie a tutti bella stradina da trattore bella rilassante e comoda adesso mi porta in una discesa spropositata che ci ammazziamo comunque a taglio bravo 2 numero 2 numero 2